Bene amici, video particolare diviso in due parti. Nella prima vi spiego tutti gli strumenti di tutela, i sussidi, gli aiuti, i bonus che sono previsti oggi dalla legge per chi rimane senza lavoro, quindi per chi è disoccupato e inoccupato. Nella seconda parte invece vedremo sei consigli super utili per ricollocarsi, i migliori siti, il curriculum, la formazione gratuita, gli sgravi, i bonus assunzione per rimettersi in pista. Io sono Mr. Lul, sigla prima, mi raccomando, like per sostenere il video e il canale, iscrizione col campanone per non perdere i prossimi aggiornamenti e se volete sostenere il canale c'è anche il tasto abbonamentone. Partiamo che ce n'è! Capitolo, sussidi, bonus, aiuti. Iniziamo con la Naspi, la disoccupazione per chi ha perso involontariamente il proprio posto di lavoro, quindi licenziamento, scadenza di contratto a termine, dimissioni per giusta causa. Nel 2021 l'accesso alla Naspi è facilitato, non servono più le famose 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, ma solo le almeno 13 settimane contribuite negli ultimi 4 anni. Per i lavoratori parasubordinati, ad esempio i Cococò, c'è la Discol. Poi, reddito di cittadinanza che è compatibile anche con la Naspi, ma il reddito può essere richiesto anche da chi lavora, ma purtroppo ha redditi molto bassi, dagli inoccupati o da chi non ha mai proprio lavorato. Si tratta però di un sussidio di nucleo familiare e quindi bisogna rispettare stringenti requisiti, ISEE, di reddito, patrimonio, residenza. Figlio invece proprio della crisi pandemica e incompatibile col reddito di cittadinanza è il reddito di emergenza, il REM, un paracadute per chi non ha fondamentalmente altri sostegni. Questo REM va da 400 euro mensili a massimo 840. Proprio adesso ci sono 4 nuove rate che copriranno i nuclei fino a settembre, richiedibili entro il 31 di luglio. Mi raccomando, da marzo 2020 poi troviamo tutti i vari bonus aiuti onnicomprensivi di cui gli ultimi in ordine cronologico e per ora proprio gli ultimi, perché non ce ne sono altri previsti almeno per ora, sono i 1600 euro. Queste indennità onnicomprensive sono compatibili anche con la percezione del reddito di cittadinanza ad integrazione proprio del sussidio. Ma chi è che può farne richiesta, visto che ci sono ancora dei dubbi? Beh, stagionali, anche in somministrazione, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, addetti alle vendite a domicilio, lavoratori atipici del settore dello spettacolo, eccetera eccetera. Infine voglio citare i trattamenti di invalidità, sia quelli previdenziali come la OI, assegno ordinario di invalidità, o proprio l'invalidità civile che va da 286 a massimo 651 euro con l'incremento al milione per gli invalidi civili totali. E come dimenticare il bonus SAR, sostegno al reddito per i lavoratori somministrati da 780 a 1000 euro, ne abbiamo appena parlato in un recente video, oltre all'assegno unico Ponte Figli, in partenza proprio da questo luglio e che spetta anche ai disoccupati e inoccupati. Ma eccoci alla seconda parte. Come attivarsi per ricollocarsi e non saranno consigli banali, vi assicuro. Per prima cosa bisogna sempre fare un bilancio delle competenze che si possiedono e aggiornare, o per qualcuno anche scrivere per la prima volta, il proprio CV, il proprio curriculum, evitando possibilmente il formato europeo. Attenzione perché non esiste un solo curriculum, ma tanti curricula a seconda della posizione a cui ci si vuole candidare, in modo proprio da andare a mettere in risalto, a mettere in luce di volta in volta le competenze e le esperienze più salienti per approdare a quel ruolo. È importante ricordarsi che il CV non serve per essere assunti, sarebbe molto comodo se ci fosse questo automatismo, ma serve per essere chiamati e quindi poi giocarsi la partita dimostrando le proprie competenze nei vari step di selezione. E ancora, non limitatevi ad inserire il vostro profilo nei database delle agenzie per il lavoro o nei vari siti di ricerca, le bacheche di lavoro come Infojobs, Monster, Indeed, Job Rapido, Just Knock, LinkedIn, eccetera eccetera. Questo non basta, non funziona, così siete solo una goccia nel mare. Dovete ogni volta candidarvi attivamente per gli annunci che vi interessano e attivare anche quella che io chiamo modalità molesta, cioè inviare la propria candidatura anche per quella stessa posizione, ma tramite più canali, cercando anche magari i contatti di chi ha inserito proprio quell'annuncio. Capitolo formazione, forse il più importante, che è proprio l'aggiornamento delle proprie competenze professionali. È fondamentale oggi e tra l'altro si può fare gratuitamente e anche online. Esistono corsi format, ad esempio, o comunque finanziati interamente da fondi interprofessionali, che anche online, complice la pandemia, adesso non hanno più nemmeno il limite di funzionare in certe regioni sì e in altre no. Grazie a questi potete imparare praticamente qualsiasi cosa, dal prendere la patente per il muletto, alla contabilità, le buste paga, la sartoria, l'inglese, l'exel da ninja, trucco, parrucco, segretariato, tutto e a costo zero. Se dovesse interessarvi questo argomento, beh, ditemelo nei commenti e vediamo di fare un video dedicato proprio solamente ai corsi gratis, sia in presenza appunto che in rete. Ultimo punto, non certo per importanza, informatevi strabene sulle agevolazioni di cui potreste essere portatori sani, bonus assunzione donne e over 50, apprendistato, che tra l'altro per chi è in naspi non ha nemmeno il tetto, il limite di età. Sgravi anche per i datori di lavoro che vi assumano in qualità di percettore di naspi o reddito di cittadinanza. L'appena nato contratto di rieoccupazione, i bonus per giovani under 36 o l'incentivo all'assunzione per gli studenti e poi la decontribuzione sud. Insomma, io spero che questa panoramica un po' più lunga del solido possa esservi utile per poi andare ad approfondire, punto per punto, quello che è per voi di maggiore interesse. E fatemi sapere nei commenti se possono interessarvi degli approfondimenti sui corsi, il curriculum oppure altro che abbiamo detto in questo video. Come sempre vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, un bel like per sostenere il video del canale, iscrizione con campanone e se volete sostenere il canale e beh, c'è anche il tasto abbonamentone. A presto, grazie, da MrLul.